Buongiorno, benvenuti a questa videoanalisi, 24 marzo, siamo alla fine di un'altra settimana molto interessante, videoanalisi che devo ricordarvi, chi ancora non si è iscritto alla newsletter la può ricevere via email se cliccate sulla scritta che compare sopra la mia testa, videoanalisi realizzata insieme al fantastico broker STO, quello è sito internet, sottoscorrono i contatti di Marco Pianezza, sono appena usciti ma li vedrete apparire nuovamente, mettete in pausa quando è lì il numero di telefono, l'ufficio diretto di Milano, numero diretto dell'ufficio di Milano, ho fatto un po' di confusione, scusate, anche l'indirizzo email per chiedere tutte le informazioni in merito all'offerta, quella che è di STO, con STO inoltre ci sono altre collaborazioni, potete avere gratis l'indicatore, ed è caro di Sakhinashi che oggi vi farò vedere una novità dell'ultima release che ha realizzato, colui che l'ha creato, il nostro partner amico, esperto informatico, dottor Sabino Marti Radonna, non solo il 3 aprile parte anche, sarà STO broker sponsor, il Trading Talent Show, quindi traders venite, vi aspettiamo, siamo già, ho realizzato delle video interviste con coloro che parteciperanno e stanno venendo fuori delle storie bellissime, quindi tante tante cose insieme a STO, mentre dall'altra parte dell'oceano stanno contando i voti, ieri addirittura non si è arrivata ad una votazione per la riforma del sistema sanitario americano, uno dei cavalli di battaglia di Trump che sembrava potesse avere meno ostacoli rispetto ad altri, tipo il taglio delle tasse che ha promesso durante la sua campagna elettorale, niente, non ce la fanno, si stanno contando i voti, anche Wall Street, in qualche modo gli operatori investitori stanno cercando di capire ce la farà o non ce la farà, è molto molto importante un test per capire, insomma, questa riforma di tutte quelle che sono state le idee di Trump che lo hanno portato alla vittoria, riuscirà a concretizzarle, riuscirà, e sono anche quelli del repartito suo repubblicano che lo stanno ostacolando, quindi non è solo i democratici. È dura, è dura, è dura, e qui proprio adesso stiamo avendo un riscontro con la realtà dei fatti, se ce la farà o meno, Trump è molto irizzato, sta twittando ancora di più, sta cercando di convincere tutti della bontà della riforma che lui vuole portare avanti. Vedremo, vedremo se oggi riusciranno, già il fatto che ieri non c'è stato il voto, non è un buon segnale, nella maniera più assoluta. Vedremo oggi, forse, non c'è un orario, non mi scrivete a che ora, a che ora, non lo so io, non penso che ci sia anche un orario ufficiale, quindi, fin quando troveranno un accordo, probabilmente, se troveranno, ci sarà fumata bianca, nera, grigia, non lo so. Aspettiamo tutti insieme, seguite Twitter al massimo, lì su Twitter si hanno le notizie decisamente in tempo reale. Vi faccio vedere, come promesso, la piattaforma, intanto, MetaTrader, di STO, guardate quanto sono belli questi grafici messi tutti insieme. Nell'ultima release, versione dell'indicatore DeCaroli Seikinashi, che cosa ha fatto il buon Sabino, chiamiamolo, ma, sa, oramai, anche molti di voi che lo usano conoscono benissimo con il solo Sabino, chiamiamo così, che è suo nome poi, non è che, chissà. E, vedete, sopra io, per esempio, ho creato, qui poi potete personalizzare come volete, ho messo l'indice Fuzimib, che è il CFD, relativo CFD sulla piattaforma STO, che segue, praticamente, il motore di prezzo del Future, regolamentato sul IDEM. Sopra c'è un grafico a 30 minuti, quindi, ma potete usarlo anche sul daily, non necessariamente, 30 minuti, speculazioni intraday. E sotto ci sono quelli che sono i mini chart, mini grafici. Quindi, ho caricato, io ho scelto, l'S&P 500, il Nasdaq, il DAX, qui l'indice francese e qui l'indice inglese. Perché? Ora, per esempio, l'Italia è partita con una candela verde, candela rossa, c'è la freccettina che mi indica un segnale a ribasso, che però non è da prendere in considerazione, perché la strategia che ho implementato io nell'intraday, dico, aspettiamo almeno un mini trend in apertura di giornata, cioè almeno la formazione di due candele dello stesso colore, fino a quando si alternano verde e rosse, è laterale, non c'è un trend, perché la strategia tende a speculare dopo un trend a ribasso con candela verde, long, dopo un trend a rialzo, candela rossa, short, con determinati requisiti. Ma c'è anche un servizio dove vi seguiamo, c'è Ivan, il mio collaboratore, che vi spiega e facciamo vedere anche dei settaggi, ottimizzazioni per utilizzare l'indicatore dei caroli Seikinashi. Quindi, dicevo, vedete, si è formata comunque la rossa, ipotizziamo che questa rossa fosse buona, ci fossero state due candele verdi, adesso si stanno formando due rosse, vuol dire che la prima verde potrebbe essere utile. Qui queste linee tratteggiate delimitano massimi e minimi di giornata, perché dopo un massimo candela rossa, dopo un verde, candela verde. Quindi io così, con una sola videata, un solo monitor, senza dover avere 3000 monitor, riesco a vedere, ok, si è formato, diciamo che diamo per buono il segnale rosso, ipotizziamo, e vedo come sono posizionate, e vedo che effettivamente c'è un indice americano a ribasso, l'indice S&P 500, anche il Nasdaq a ribasso, il DAX pure ha confermato delle rosse così come quello francese, l'inglese no, sta seguendo un trend tutto suo, è un po' decorrelato, spesso decorrelato dal resto del mondo, e quindi questa rossa, in qualche modo io sono più fiducioso, perché ovviamente se il segnale si forma contemporaneamente su più indici o su più valute, per esempio pensate al mercato del Forex, che lì proprio le correlazioni sono fortissime, quindi USDCAD con oil, euro-dollaro, dollaro-franco-svizzero, dollaro-yen, quindi australiano con neozelandese, oil a sua volta, gold, quindi voi così, quando si crea il segnale, avete le conferme, potete con una sola videata avere le conferme, tutto questo lo potete avere gratis se aprite un conto premium con STO, chiamate Marco che vi dice tutte le informazioni. Quindi apertura, siamo tornati sopra i 20.000, adesso torniamo alla videoanalisi intermarket, andiamo indici euro daily, e venite con me che vado dentro i grafici, eccomi qua. Allora, vedete ieri la candela rossa, la prudenza che io invito sempre ad avere sui mercati, si era formata la candela rossa, ma questa candela rossa è stata, si è avvenuta, si è concretizzata in una seduta in cui l'indice ha chiuso col segno più, quindi io aspetto una doppia conferma, e aspettare una doppia conferma, ulteriore prudenza, perché già un grafico è chi nasce, porta a prudenza, a essere molto prudenti, e ho evitato di entrare al ribasso, e in questo momento sto avendo ragione. Altre volte magari usciva la verde, aspettavo un'altra rossa in una seduta in cui chiudeva l'indice col segno meno, in questo caso, quindi come vedete si evitano dei falsi segnali. Quindi il nostro Fuzzimib comunque ha ripreso la corsa, siamo tornati sopra i 20.000, 20.126 in questo momento sta battendo il prezzo, il CFD che ricordo segue molto da vicino la quotazione del future quotato sull'IDEM, e quindi sembra il nostro indice riprendere la strada al rialzo. Invece c'è un DAX che è un po' più indietro, però sta riprendendo, in questo momento sopra i 12.000, si sta riaffacciando ai 12.100 punti. Per il resto, l'indice spagnolo, questo qui proprio vicino a me, sta seguendo Italia e Spagna, in questo momento sono appaiate, stanno avendo un trend molto simile negli ultimi giorni, non solo negli ultimi giorni, mentre vedete c'è l'Eurostox che sta provando a mettere la testa sopra la resistenza e quindi per una eventuale violazione, così come anche l'indice francese. In questo momento l'indice inglese è quello che è zoppica, che sta avendo qualche difficoltà in più, con una sterlina che sta recuperando. Da quando c'è stato soprattutto Brexit c'è una correlazione inversa, mediamente se sale uno scende l'altro, quindi con la sterlina al rialzo scende l'indice e viceversa. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda gli indici euro, daily, l'indicatore del caro, se è chi nasce, che vi ho fatto vedere prima, era 30 minuti, speculazione, praticamente intraday. Indici USA in attesa di capire passerà o no questa riforma sanitaria di Trump, l'impostazione è tutti al ribasso, direi che la fotografia che vedete qui è abbastanza chiara, quindi tutto per il momento resta al ribasso in attesa. Ma poi fate attenzione al mercato, cambia umore abbastanza velocemente, chi oramai fa questo mestiere trader da diverso tempo, magari che succede? Che non passa la riforma sanitaria o viene emendata rispetto a quello che era il progetto iniziale, non lo so, però alla fine il mercato dice, ma sì, la riforma sanitaria alla fine non era proprio quello che conta, noi ci aspettiamo il taglio delle tasse, ci aspettiamo più investimenti che creano lavoro e tutto il resto, rimpatrio di soldi, dollari dall'estero, e quindi magari a un certo punto non viene più dato peso a quello che sta succedendo adesso e dice, no, tutto sommato noi vogliamo guardare più alle altre misure, riforme fiscali, ripeto, o quelle degli investimenti. Quindi fate sempre attenzione, seguite la strategia e decidete anche come eventualmente muovervi all'interno di essa, considerando sempre tutto il contesto, non guardate i grafici così e basta, senza guardarvi intorno a quello che succede nel resto del mondo. Quindi Europa, debole con l'Italia e Spagna che stanno sovraperformando in questo momento, gli indici americani deboli ma in attesa più che altro di capire se passerà o meno la riforma, andiamo a vedere il Giappone dove oggi hanno chiuso in positivo, nonostante lo scandalo, il potenziale scandalo che sta toccando la moglie del primo ministro giapponese, e oggi sta confermando questa verde ha chiuso positivo, ma siamo sempre lì, quel range, vedete, lì era mai da molto tempo che lì non si schioda, non esce, non esce, è in gabbia, diciamo così, l'indice giapponese, quindi giusto o utile speculazione, fino a quando qui, poi, prima o poi dovrebbe venire fuori. Anche perché, se andiamo a vedere il dollaro yen, quindi passiamo al, eccolo qui, c'è un dollaro yen in questo momento ancora debole, sotto la resistenza, questa qui, 111.83, proprio, anche se mi sposto non si vede, 111.83 è dollaro yen correlato positivamente con Wall Street e l'indice Nikkei di Tokyo, quindi qua c'è stata una violazione e si sono visti dei movimenti interessanti. Invece l'euro lì, c'è un euro che ha violato 1.08, ma sembra quasi, usando il termine caro a lui, Mr. T, un fake, una fake violazione, falsa violazione, non ha la forza, anche perché c'è un dollaro franco svizzero che ancora non ha violato questo supporto, sono correlati inversamente, vedete com'è perfetto il grafico a specchio, con l'euro dollaro che saliva, dollaro franco svizzero scendeva, poi vedete non è sempre, quando io dico non è automatica, per varie ragioni qui vicissitudini legate alla BCE, all'euro, a dati macroeconomici, però mediamente poi vedete è ritornata con l'euro dollaro che è schizzato al rialzo, quando è diventato il dollaro, il motivo, il driver di questo movimento, è tornata la correlazione, perfetto, e quindi tutto giù. Sterlina sotto 1,25, in questo momento ieri vendite al dettaglio positive, con quello dell'inflazione, insomma, Sterlina che però resta sempre in quei 700 pips, circa tra 1,27 e 50 e 1,20 e 50, in attesa di capire settimana prossima, 29 marzo, ricordo, ci sarà l'attivazione dell'articolo 50, e molti stanno sollevando dei dubbi sul fatto se si arriverà a un accordo entro i due anni, perché ora come ora l'articolo 50 e il trattato di Sbona prevede due anni, a proposito, domani si festeggiano i 60 dell'Unione Europea, allora, povera Europa, come ci arriva a questo compleanno? Juncker ha detto che il divorzio costerà caro all'Inghilterra, al Regno Unito, e questa è la grande, ora il grande motivo di scontro con il Regno Unito. Vedremo, 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 cose interessanti, guardate Forex e materie prime, guardate Forex e materie prime, guardate Forex e materie prime, cominciando dal gold, ai 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 ai, mi sa, questo grafico sembra dire che ancora una volta 1.257, non ce la fa, non ce la fa, si è attenuata, la candela verde è diventata piccolissima, chissà che ancora una volta 1.257, se faccio adesso uno zoom giusto per dare una fotografia più esatta, questo è il movimento del gold che è quotato in dollari, quindi super dollaro trump è stato quello che ha trascinato gold fin giù fino a qui questo supporto 1128 fantastica reazione fino a 1257 del 1200 c'era stata la recente ripresa delle quotazioni del gold e ancora una volta sembra 1257 dura 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 a questo punto salto al mercato obbligazionario perché è fortemente correlato con e anche qui vedete è diventata più piccola si è fermato prima non è arrivato allo stesso movimento qui che praticamente c'era stato in passato i massimi il massimo del rimbalzo post trump anche qui quello il movimento del gold crollato qui rendimenti 2 6 quando siamo da queste parti quando siamo da queste parti l'ho detto più volte ce l'hanno scritta caratteri cubitali nelle sale trading sali di gestione è già qui che poi se vedete la precisione è questo livello anche dove già si è fermato insomma intanto aspettiamo di vedere il colore rosso fino a quando non c'è rosso quindi non si pone neanche il problema torniamo al mercato forex e materie prime gold quindi che sembra voler eccolo lì che intanto su bloomberg vedo lui mister t questa usd cad è petrolio che resta ancora sotto il supporto 48 e 77 dollari quotato in dollari anche qui seguirà quindi si aspettano notizie e novità per quanto riguarda il la riforma sanitaria bene allora per oggi è tutto si chiude quindi questa settimana vi ringrazio per la contesa attenzione appuntamento a lunedì con angelo ciavarella che ormai appuntamento che sono molto molto atteso da tutti voi anche da me insomma sono curioso di vedere cosa ci dirà il buon angelo dopo tutte le cose che sono successe questa settimana io vi auguro un buon weekend a tutti voi buon fine settimana appuntamento a lunedì arrivederci grazie a tutti